Siamo tutti ragazzi, sono Morto Mosca, siamo uno di questo nuovo episodio del P3, sono Modkader e questo è l'ultimo episodio della nostra serie ragazzi, perché oggi faremo abitare il Giappone e metteremo fine a questa serie che è durata già a molti episodi, penso 21-22 o cose del genere, e detto ciò stavamo continuando qui ad attaccare i stati africani Ora passando il tempo se non erro dovrebbero esatto completarsi tutte le notificazioni Quindi facciamo passare un giorno, ecco qua, ne abbiamo un bel po' e dichiariamo guerra Chiamiamo tutti, eeeh che casino, ci metteremo molti anni, ma ci vuole troppo tempo Vabbè io li chiamo dopo, altrimenti per caricare tutte le entrate in guerra ci mette milioni di anni, quindi facciamo così e poi da qua dentro andremo a essere in guerra con tutti, forse ho dimenticato qualche stato, sicuramente, oh madonna Eeeh chiamiamo tutti Perfetto, vediamo un po' questo manca Ah la giustificazione, ho fatto quella Cinque giorni Vabbè Vabbè non importa Organizziamoci Per il Giappone Allora qui magari Aspetta cosa faccio Faccio qualcosa del genere qua Va bene Poi Mi servirebbe un piano Piccolo Per Prendere queste isole Va bene E dopo di ciò questi li mandiamo in Africa Eeeh in particolare nel Nord Africa Allora qui è successo un casino Allora vediamo qua Perfetto Stessa cosa Qua Ottimo E qui possiamo combattere In tranquillità La conferenza di Tokyo? O cazzo? Dimentichiamoce ne voi Non so Non lo so Potrebbe essere la questione Giusto in modo che loro possano La OG possa mantenere Queste città Che cazzo? Germanistasia Va bene Tienete pure i tuoi segreti Allora questa parte Dobbiamo metterla a posto Perfetto Intanto che ero Immerso nei calcoli da fare Eeeh Mi ricordo di scrivere che il canale Avete inscritto Perché la questione è molto importante Abbiamo un sacco di comunicazione Mi interesso E ovviamente C'è un mi piace al video Se la stai ripetendo Visto che questo è il nostro Ultimo episodio Ragazzi Perfetto Sono pronta Anche queste justificazioni Adesso dovremmo essere in guerra Contro tutti Ovviamente Chiamiamo I nuovi Membri Contro queste guerre Perfetto Perfetto E' crashato E' crashato E' crashato il gioco Va bene Paradox Va bene Riapriamolo Dai vai affanculo Vai esci Velocemente Prima che mi incazzi Se fai casino con i suoni Distruggo tutte Ecco non l'ha fatto Meno male Penso che si è crashato Forse per l'effetto Delle robe Delle delegazioni Possibile Molto probabile Vediamo Cosa riusciamo a fare Adesso Sperando che Non ci siano Errori troppo Cioè non ci siano Errori a critico Che non permettono Di funzionare la serie A parte che C'era solo a fine Il trattato Quindi Chi se ne frega Glucchiamo il tempo Ah Siamo ancora Ai tempi Delle justificazioni Vediamo un po' Penso crashi di nuovo In realtà Vediamo se L'evento Eh l'evento Questo qua Sicuro Sicuro quanto volete L'evento di questa roba Facciamo un momento Nella conferenza Penso crashi di nuovo Però Tempo 2-3 giorni A meno C'è ora Cambiato tipo di evento Magari così Va bene Vediamo ancora Di creazioni Guarda Quante state ci sono Boh Sembra Stavolta Che non ci siano problemi Vediamo un po' Magari mi sbaglio Boh Sembra un cinesino Va bene Meglio Ah Non ho Non sono stati spostati Ovviamente Perché Questi spostamenti L'abbiamo fatto prima Quindi facciamo Queste Suddivisioni Oh Che bello Non è andato Puttana Eva Dove siamo qua Ah È stato messo da questa parte Ecco perché Perfetto Aggressivo E avviato Poi Poi Quei 67 Li mandiamo In Africa Perfetto Perfetto Boh Direi che adesso Siamo Davvero a posto Tutti gli stati Sì Sono tutti gli stati Chiamati C'è questo In realtà No Fa parte Non è stato a parte Zanzibar Vabbè Lo annetteremo poi Crash ragazzi E niente Crash Basta Non possiamo fare più niente E direi che possiamo Concludere questa serie Allora No Quindi ragazzi Per questa serie Tutte ne abbiamo finito Con questo nostro Ultimo episodio Ovviamente Come sempre Paradox Non ci fa finire La nostra serie Perché c'è sempre Qualche problema In questo caso Non si può andare avanti Inutile che stiamo Lì a perdere tempo Abbiamo già fatto due Possibilità Dell'evento Che viene messo in gioco E si ottiene sempre Il stesso risultato Vuol dire che Oh c'è un problema Con l'evento Oppure semplicemente Ci sono dei conflitti Interni Che io non posso Comprendere E non comprenderò Ovviamente Quindi ragazzi Per questo ultimo episodio Da essere tutto Ci vediamo presto Una prossima serie Che penso che però Aspetterò Almeno una settimana A fare Una nuova serie Per il fatto Che se iniziassi Un'altra Non se raccolerebbe Nessuno Per il fatto Che non è tornato Ancora nessuno Dalle vacanze O quantomeno Parte della gente Non è ancora tornata Dalle vacanze Quindi youtube Non viene ancora calcolato E per questo motivo Inizierò penso Verso 7 Barra 10 Di settembre E ovviamente Continuerò a pubblicare Video di altro genere Vedremo un po' Cosa mettere la mattina Vedrò Quindi ragazzi In questo video è tutto Ci vediamo presto In un prossimo episodio Ciao